Buonasera, mi chiamo De Marco Pasquale, sono capo barman al Bail Giochi Francese del Casano della Vallée. Sono qui per proporvi un cocktail estivo moderatamente alcolico dal nome Chemin de Fer. Gli ingredienti per la preparazione di questo drink sono 15 cl di gin, 5 cl di mandarinetto di salabella, 5 cl di liquore galliano, 10 cl di sciroppo di fragola, 10 cl di spremuta di limone e completiamo con la lemon soda. Allora, procediamo con la preparazione del drink. Mettiamo il ghiaccio nel Mrs. Glass, versiamo la quantità di gin necessaria, la quantità dell'isola bella necessaria, del liquore galliano, dello sciroppo alla fragola, della spremuta di limone e procediamo nello shakerare il drink. Dopo aver shakerato il drink eliminiamo il ghiaccio dal bicchiere che serviva per raffreddarlo e versiamo il drink. Versiamo il drink e lo completiamo con la lemon soda. gli diamo una girata. A questo punto procediamo con la decorazione del drink. Uno spicchio di mandarino, mezza fragola, una spirale di limone, una cannuccia, e un miscelatore. A questo punto il drink Chemin de Ferre è pronto per essere bevuto. Grazie a tutti.